Scusa eh Allora a me sente anche se faccio un minimo passo A quella che gli è passata dietro non lo sente Bah Ok adesso il problema è dove caspita devo andare Come al solito poi Dove che devo andare Ma il problema è sempre quello eh Fatto che mi perdo Ma ti stai ferma che cosa cammini così Ma guardala ma perché non la sentono a quella che cammina così E io che cammino piano piano mi sento Guarda quella Guarda quella cosa fa Ma hanno sentito mezzo mondo adesso Ok meno male Dove c'è la bottiglia Eccola qua No ma quella non me ne era accorta Ma io dove cavolo devo andare Sono andato dalla parte giusta Tabù Vai apriamo ma è vuoto Penso che sono andato dalla direzione sbagliata Tanto per cambiare Ma ho sentito qualcuno Ma questi cammini sono come non si sa cosa Ma cosa stai facendo Mi spieghi? Ancora Ancora Ma ti fermi due secondi Non ho capito perché a volte mi fa dare la coltellata E a volte invece mi fa strangolare Se infatti mi da un nervoso Il problema Meno male che siamo quasi fuori Io di testa però sto fuori Il problema è che se mi muovo io Il mostro mi sente Se si muove lei No Guardala guardala Ma ti fermi ma dai E come facciamo con sto mostriciatolo qua Non me lo fa afferrare Perché Eccolo ti pareva E ti pareva Che cosa ho detto io? Io mi devo muovere silenziosamente Ma ti rendi conto che quella si scancorre praticamente ad essere sinistra? Incredibile Mi muovo io piano piano E mi sente Alla che corri no Ma ti pare normale sta cosa? Questo dalle sbracciate qua ad essere sinistra Ma visto? Ma visto? M'ha visto? Credo proprio di sì ma Toh Ehm N'è successo niente? Che vuoi? Salve Porca misera Ci hanno sentito Tutti Dai Prendi la scazzotti Ma che fai? Ah ma non lo posso prendere A scazzottarmi Ok Serve coltello Ma va Capito come mi è libero di sto coso io qua davanti Non lo posso neanche costruire Però posso bruciarlo No? Non posso bruciarlo? Ora che ci penso No Ma hanno sentito tutti No 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 ok 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 forza Dai sbrigatevi però Dove sta l'altra? Ma che fai? Sali No 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 Grazie a tutti